Diciamo che innanzitutto la provincia di Bolzano è una delle poche realtà italiane che ha da molti decenni, dagli anni 70, un sistema di reddito minimo. Credo che la riflessione serve soprattutto a vedere quanto questo strumento sia ancora attuale e valutare eventuali necessità di modifica. I confronti che abbiamo fatto, sia con realtà austriache, trentini o così via, in qualche modo ci incoraggiano, nel senso che vediamo che sono molto simili al modello alto-artesino, in qualche modo confermano la bontà di questo sistema.